Una start-up che si trasforma in successo, un giovane liceale che inventa una piattaforma per selezionare, secondo titoli e meritocrazia, figure professionali nella difficile giungla del lavoro giovanile. Un'idea che trasformerà la sua vita alla velocità del web, un successo che non risparmierà sofferenze e scelte difficili. Il film è basato su una storia vera, quella di Matteo Achilli, ideatore di Egomnia, e arrivato da poco nelle sale cinematografiche d'Italia. E a recitare nel ruolo di protagonista Andrea Arcangeli, giovane esordiente pescarese di origine, trasferito ormai a Roma da diversi anni. Sei settimane di lavoro per girare la pellicola tra Roma e Milano e l'emozione di chi si trova catacultato nel lavoro dei suoi sogni e lo assapora pieno. Il film è bello secondo me per due motivi principali. Uno per i temi che tratta. È un film che dà speranza per chi lo vede, soprattutto per i ragazzi e i giovani, viene voglia di rimboccarsi le maniche e fare, piuttosto che prendere e andarsene, perché tanto la situazione in Italia è quella che è. E poi dall'altro lato è un film che secondo me è necessario proprio per il cinema italiano, perché si inserisce tranquillamente in quel filone di film che dà qualcosa in più al cinema rispetto alle cose che si vedono solitamente. Questo film non celebra il sito che questo ragazzo ha creato, è soltanto una sorta di pretesto per raccontare una storia bella italiana di un ragazzo che da una realtà piccola, che è quella della periferia di Roma, è riuscito a portare avanti il suo progetto. Una storia che mostra entrambe le facce della medaglia, il successo, l'ambizione e il prezzo delle proprie scelte, simbolo di un'era sempre più liquida ed effimera, che punta l'attenzione sui valori vecchi e nuovi messi duramente a confronto. Non essere pronti a quello che il successo ti porta, racconta com'è facile perdere la lucidità in niente, in un attimo. Poi a questo si aggiunge il carico che, ovvero il suo sito appena va online, fa un boom incredibile e lui inizia a perdersi totalmente, a perdere i suoi appigli, cioè gli amici, la ragazza. Ed era stato bello interpretare questi lati, questa zona ed ombra del personaggio.